cari amici un cordiale saluto a tutti voi che seguite queste trasmissioni che oggi cominciano sono una serie di trasmissioni che vogliamo dedicare alla esortazione apostolica a moris letizia scritta da papa francesco dopo ben due sinodi uno straordinario e uno ordinario sinodi mondiali dei vescovi sul tema della famiglia e dopo anche una ampia consultazione di tutte le chiese locali di tutte le diocesi attraverso anche dei questionari che sono stati poi compilati dai vari organismi delle diverse diocesi dedicheremo perciò dicevo alcune trasmissioni all'approfondimento di questa esortazione apostolica intitolata moris letizia sull'amore e sulla famiglia sull'amore nella famiglia e dedicheremo queste trasmissioni proprio per presentare il contenuto di questo documento così importante e direi anche così atteso così atteso perché ripeto viene dopo un'ampia consultazione delle varie chiese locali e dopo ben due sinodi mondiali dei vescovi tuttavia la moris letizia è un documento del papa è un documento dunque di magistero pontificio ma è un documento del papa che scaturisce da quello che poi si può chiamare uno stile sinodale della chiesa cioè una chiesa che si pone in ascolto dell'uomo di questo tempo che è desiderosa di dialogare con tutti ovviamente a cominciare dal dialogo che deve avvenire al proprio interno e di una chiesa che vuole dialogare anche con i non credenti con le diverse culture che oggi sono presenti nella nostra società senza però con questo rinunciare ovviamente alla propria dottrina alla verità che il signore gesù le ha consegnato ma la verità che gesù ha consegnato e che prende corpo ovviamente sotto forma di verità dottrinali di dogmi di verità di fede è una verità che va poi calata nelle situazioni concrete e questo vale in modo particolarissimo per il matrimonio e per la famiglia mi pare che questo sile sinodale emerga già nelle battute iniziali del documento di papa francesco per esempio al numero 3 il papa francesco dice che nella chiesa ovviamente è necessaria una unità di dottrina e di prassi e tuttavia non tutte le discussioni dottrinali morali o pastorali devono essere decise con interventi del magistero così come questa necessaria conservazione dell'unità della dottrina e della prassi non impedisce dice il papa che esistano diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune conseguenze che da essa derivano per cui mi sembra che si spieghi poi facilmente quello che il papa scrive al numero 2 dell'amoris laetitia dice che in questo campo specialmente nel campo del matrimonio e della famiglia bisogna evitare due estremi un primo estremo è il desiderio di voler cambiare tutto in modo radicale e questo è un estremismo presente in alcune frange della cultura contemporanea l'altro estremo è quella la idea di voler risolvere ogni cosa applicando norme generali il papa scriverà nei paragrafi successivi un concetto di sant'ommaso d'aquino e cioè che la norma generale per così dire più si cala nei casi particolari e più diventa sfumata perché nessuna norma morale può contemplare tutta la casistica possibile e immaginabile questi due estremismi dice papa francesco vanno evitati voler cambiare tutto o voler applicare ad ogni singola situazione norme generali che per loro natura dico non possono abbracciare tutti i singoli casi concreti io dopo aver letto e anche studiato questo documento amoris laetitia ritengo di avere trovato quella che può essere la chiave di lettura quella che può essere la cifra sintetica dell'intero documento pontificio a me pare che questa chiave di lettura e questa cifra sintetica siano la coniugazione tra verità e carità da un lato papa francesco non manca in questo documento di offrire indicazioni chiare indicazioni forti sul tema del matrimonio della famiglia e non manca anche di confermare di ribadire quelle che sono acquisizioni assodatissime ormai su questo tema dall'altro lato però lo stesso papa nello stesso documento lascia ampio spazio al discernimento pastorale delle chiese locali o delle conferenze episcopali locali per dirimere quelle che possono essere alcune questioni di tipo pastorale qui non tutta la grande stampa è stata capace a mio avviso di capire questi concetti questa è una mia umilissima posizione una mia umilissima impressione chi si aspettava che questo documento del papa cambiasse il mondo è rimasto forse un po deluso così come chi si aspettava che questo documento del papa non facesse altro che ripetere supinamente quanto già il magistero precedente aveva scritto in materia di matrimoni e famiglia anch'esso è rimasto deluso però io credo che papa francesco da questo punto di vista abbia voluto appunto coniugare la verità con la carità pastorale da un lato l'annuncio della verità e quindi la conferma di quelle che sono le acquisizioni dicevo del magistero della chiesa in questo campo così delicato e dall'altro lato però la carità perché la verità va annunciata sempre con carità e va sempre annunciata nella carità non si prendono le persone a pesci in faccia e meno che meno a colpi di verità in faccia insomma ecco quindi la verità calata poi nelle situazioni concrete e presentata con misericordia con ascolto con comprensione se io posso dire appunto quella che a mio avviso è la chiave di lettura di questo documento mi sembra che sia esattamente questa la amoris letizia si divide in nove capitoli nove capitoli che sono di varia grandezza non tutti sono quindi della stessa consistenza e non tutti sono della stessa importanza scorrendo un po l'indice del testo il primo capitolo è intitolato alla luce della parola ed è dedicato come giusto che sia ai fondamenti biblici della dottrina della chiesa sul matrimonio e sulla famiglia il punto di partenza infatti non può che essere la parola di dio la bibbia perché è dalla parola di dio dalla rivelazione biblica che la chiesa desume le verità che annuncia il secondo capitolo molto importante già più ampio rispetto al primo parla della realtà e delle sfide della famiglia e quindi vuole gettare uno sguardo su quella che è la situazione attuale della famiglia nel mondo contemporaneo e su quelle che possono essere alcune sfide che vengono specialmente alla chiesa in questo campo dalle diverse culture che oggi sono presenti nel mondo il terzo capitolo della amoris letizia è intitolato lo sguardo rivolto a gesù e poi due punti la vocazione della famiglia qui si recupera ovviamente ancora il dato biblico ma si presentano anche i precedenti pronunciamenti magisteriali in maniera sintetica i precedenti pronunciamenti del magistero della chiesa in materia di matrimonio e famiglia e si parla ovviamente della sacramentalità del matrimonio si dice perché e in che senso il matrimonio è un sacramento molto interessante in questo terzo capitolo e quel paragrafo intitolato semi del verbo e situazioni imperfette quelle che un tempo si chiamavano situazioni irregolari qui già vengono chiamate situazioni imperfette quindi non si tratta di andare contro una regola ma si tratta di vivere o non vivere secondo quello che può essere la perfezione dell'ideale cristiano però anche in queste situazioni imperfette scriverà il papa e lo analizzeremo in una delle puntate successive ci sono presenti alcuni semi del verbo cioè alcuni semi della verità che è cristo il quarto capitolo è intitolato l'amore nel matrimonio ed è un capitolo davvero molto bello molto bello per cui questo mi permette anche di dire che non dà ragione questo testo dell'amore sletizia a quanti lo restringono alle sole questioni dei divorziati risposati o dei conviventi eccetera l'amore sletizia è un testo molto più ricco molto più ampio che tratta praticamente quasi tutte le questioni del matrimonio della famiglia dicevo questo quarto capitolo intitolato l'amore nel matrimonio è molto lungo è anche un capitolo molto bello molto ricco c'è una prima parte che è modulata direi sull'inno alla carità di san paolo vi ricordate la carità è paziente la carità è benevola non è invidiosa eccetera poi una seconda parte intitolata crescere nella carità coniugale e una terza parte e una quarta parte che sono importantissime perché parlano delle passioni delle emozioni nel campo dell'amore anche della dimensione erotica dell'amore e parlano delle possibili trasformazioni che ci sono nel campo dell'amore il quinto capitolo l'amore che diventa fecondo ovviamente tratta della procreazione responsabile ma anche della presenza della vita nella famiglia in senso ampio e quindi i figli gli anziani i fratelli eccetera eccetera il sesto capitolo alcune prospettive pastorali parla dell'annuncio della famiglia del vangelo della famiglia oggi della guida dei fidanzati nel cammino di preparazione al matrimonio dei primi anni di matrimonio eccetera il settimo capitolo è quello che riguarda l'educazione dei figli l'ottavo capitolo era quello più atteso e parla della delle situazioni appunto difficili imperfette verso le quali il papa dice che bisogna usare tre verbi accompagnare discernere e integrare ne parleremo no si tratta di discernere le varie situazioni di conviventi di divorziati di divorziati risposati risposati solo civilmente e di accompagnare queste persone con uno stile di misericordia cercando di capire come possono essere integrate nella vita della chiesa e infine il nono e ultimo capitolo è molto breve ma non meno intenso degli altri capitoli e parla della spiritualità coniugale e familiare io mi fermerei qui in questa prima puntata mi sono limitato a darvi una presentazione così generale del testo della amoris letizia avremo modo nelle puntate successive di soffermarci ovviamente sui singoli capitoli sui singoli temi che questo ricco testo del papa francesco indica non solo per noi credenti ma anche per i non credenti